Il secolo più affascinante della storia dell'arte raccontato attraverso le opere dei maestri che all'epoca erano considerati rivoluzionari e che per primi si erano allontanati dalle regole dell'Accademia. La mostra da Monet a Matisse, French Moders 1850-1950 inaugurata a Palazzo Zabarella a Padova, è un viaggio che celebra il modernismo e la Francia con opere che arrivano dalla collezione del Brooklyn Museum. È una grande occasione, è una grande mostra, 60 opere che arrivano per la prima volta in Europa, quindi è difficile da vedere, peraltro di questo grande museo che è il Brooklyn è uno dei più grandi musei del mondo e quindi è una grande opportunità per il pubblico di vedere una storia diversa. I colori dei paesaggi di Monet, Pissarro, Corot, i ritratti di Matisse e dei Fauve, il simbolismo di Odillon Redon, 59 opere in un percorso diviso in quattro sezioni, il paesaggio, la natura morta, il ritratto e il nudo. Un percorso fatto di luci e di colori che attraversa l'arte francese dalla svolta realista di Corot et Courbet che arriva poi a un novecento che conosce la pittura del sogno di Pierre Bonnard, la scultura primordiale di Alexander Arcipenco, l'arte meccanica di Fernand Leger. È un percorso quindi davvero illuminante perché mette in scena tutto ciò che è accaduto sul palcoscenico di Parigi nel corso di un secolo che ha segnato le sorti dell'arte europea. La mostra, attesa a Padova, resterà aperta a Palazzo Zabarella fino al 12 maggio 2024.